È stata notificata questa mattina dall'Aspedi Agrigento al Sinnaco Calogero Cattano la notizia della presenza a Caltabellotta di due soggetti risultati positivi al Covid-19. Il piccolo comune montano, fino ad ora Covid-free in questa seconda ondata della pandemia, si ritrova dunque al pari di tanti altri comuni agrigentini a dover fare i conti con il virus arrivato anche da quelle parti. L'amministrazione comunale fa sapere di avere già adottato tutti i provvedimenti e le procedure necessarie per mettere in sicurezza i contagiati già sottoposti ad isolamento e il resto della popolazione dal pericolo di contagio. Si sta cercando di risalire alle persone che hanno avuto contatti con i positivi informando gli interessati dell'obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni. Dati quelli di Caltabellotta che chiaramente non sono inseriti nel bollettino dei contagi diffuso ieri sera dall'Aspedi Agrigento. Un report da cui emerge che sono 21 i nuovi casi di Covid-19 accertati sul territorio provinciale nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i ricoveri in ospedale, 5 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 45 persone attualmente ricoverate, 20 le persone poste in quarantena e 10 i guariti. Dei 21 nuovi casi registrati, 9 sono soggetti di Sambuca di Sicilia, dove adesso gli attuali positivi sono saliti a 103. Dei nuovi positivi al Covid, nessun caso riguarda invece la città di Sciacca, dove al contrario ci sono state altre due guarigioni che hanno fatto scendere a 44 il numero degli attuali positivi. I guariti in città di questa seconda ondata adesso sono 46, 67 in totale dall'inizio della pandemia, 119 i casi registrati a Sciacca da marzo ad oggi. Tornando al report dell'Asp, un nuovo soggetto positivo nelle ultime ore a Santa Margherita Belice, dove gli attuali positivi adesso sono 33. E nuovi casi anche nei comuni di Canicattifa, Vara, Grotte, Palma di Montechiaro, Ravanusa, San Giovanni Gemini e Sant'Angelo Muxaro. Ieri intanto, dopo il lieve calo degli ultimi due giorni, sono tornati a salire i contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 860 nuovi soggetti risultati positivi al coronavirus e 10 decessi, che hanno portato il numero complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia a 449. È aumentato di 50 unità il numero delle persone ricoverate nei reparti Covid, mentre i pazienti in terapia intensiva adesso sono 103, 5 in più rispetto al giorno precedente. Quasi 11.000 sono le persone in isolamento domiciliare e 61 quelle dichiarate guarite nelle ultime 24 ore. Gli 860 nuovi positivi in Sicilia sono arrivati processando 7.324 tamponi. Grazie a tutti.